La nazionale femminile di Pallamano giocherà per la prima volta nella storia una gara ufficiale a Teramo. Accadrà il 29 marzo prossimo al Pala San Nicolò dove l'Italia affronterà la Lituania per la quarta giornata del gruppo 2 di qualificazione agli europei 2020 di Norvegia e Danimarca. A rendere ufficiale, sede e data dell'appuntamento, la decisione del Consiglio federale della FIGIH riunitosi ieri a Verona. La città abruzzese, uno dei luoghi di maggiore tradizione nella storia del movimento italiano, tornerà ad essere scenario di un appuntamento tinto d'azzurro a distanza di 16 anni dalla sfida tra Italia e Islanda, valida per le qualificazioni ai mondiali 2005, quella volta però al maschile. Il Pala San Nicolò, struttura che risponde in toto alle richieste della European Handball Federation, per eventi di questa portata, dovrà gremirsi di appassionati terramani abruzzesi, così come era già avvenuto nei precedenti appuntamenti di rilievo legati alla disciplina dell'handball. La partita tra Italia e Lituania farà da apripista la lunga serie di eventi internazionali in programma in Abruzzo da qui alla prossima estate. I campionati mondiali di beach handball a Pescara, i campionati europei under 16 di beach handball a Silvi Marina, oltre all'immancabile Interamnia World Cup, giunta alla 48esima edizione.